L'argomento successivo quando parliamo di classi sono i getter e i setter. Diciamo che JavaScript non è un linguaggio principalmente orientato agli oggetti. Forse questa parte qua si sarebbe sicuramente, servirà sicuramente nella parte di scrittura del codice, ma la vedo molto più come un qualcosa che fa capire, che si è capito come funziona TypeScript e che eventualmente ha un possibile colloquio, una possibile interview. Andiamo però ora nell'argomento dei getter e i setters. Diciamo che il motivo principale per andare a dichiarare e utilizzare un getter e un setter è quello di andare a esporre quelli che sono degli elementi che sono marcati come private all'interno della nostra classe verso l'esterno, quindi dare un metodo per accedere appunto a questi elementi e nel caso dei setter per andare a interagire con questi elementi. Mettiamo caso che vogliamo andare a definire una nuova variabile private, quindi private andremo, anzi facciamolo qua, che sarà course count, quindi a quanti corsi un utente si è scritto, che sarà appunto un number e sarà uguale a 1, ok? Noi vogliamo che questa, scusatemi, che questa appunto sia private, quindi non è possibile accedervi effettivamente dall'esterno, quindi se qua andassi ad avere, comunque non me lo fai neanche scrivere, però course count poi mi dirà appunto che è private. Quindi questo non lo posso fare, ma quello che posso andare a fare è andare a definire quello che è un getter, quindi chiamare get course count, definire una funzione, andare a dire che ritornerà quello che è appunto un number e andare a dire che ritorna this dot course count, uno va a specificare appunto che è un getter, se io togliessi appunto quella che è la specifica non cambia nulla, anche lui comunque crede di inferire effettivamente quello che va a fare, però per sicurezza è sempre bene andare a definire quello che vogliamo che questo ritorni. Ora a questo punto io posso andare a chiamare quello che è user dot name dot dot get course count. L'importante è notare come io lo stia richiamando senza parentesi, questo perché? Perché se mettessi le parentesi mi verrà fatto notare che questa espressione è chiamabile senza parentesi proprio perché è un getter, ha l'accessorio di get davanti, se io appunto rimuovessi quello che è questo elemento, ecco che praticamente lo vado a definire comunque viene chiamato come una funzione. Ecco quello che è l'utilizzo un po' della parola get, quello che è il suo. Stessa cosa posso andare a fare con quello che è un setter, quindi vado a definire set course count, cosa molto molto interessante da notare è che non c'è bisogno di andare a dire di che tipo ritorna il nostro setter. Questo perché? Perché un setter non ha mai un annotation di return, perché non ritorna mai niente. Non posso neanche andare a utilizzare quello che è effettivamente never, proprio perché il set non si aspetta nel suo return type, perché sa che andrà solo unicamente a settare quello che è un valore. E quello che posso fare è andare a controllare che magari if course count sia sempre maggiore di zero, facciamo che mettiamo course number, facciamo questo gioco qua. In questo modo, qualora appunto sia zero, facciamo un trovo di un errore dove diciamo che deve essere sempre appunto maggiore di zero, possiamo dire quello che vogliamo, se questa condizione è soddisfatta possiamo andare a modificare il nostro course number. A questo punto io vado a chiamare user dot set course count ed ecco che anche in questo caso stiamo andando a utilizzare quello che è un setter per modificare il nostro valore. Quindi qua non dobbiamo andare a passare quello che è un valore perché siamo davanti a un setter, ok? Ma dobbiamo andare a definirlo in questo modo. Questo ci permette di andare a modificare, interagire con qualcosa che è private. Parlando sempre di elementi private, anche metodi possono essere private, quindi se avessi questo metodo che è private delete token, ad esempio, vado a definire questo metodo come private, poi non mi interessa cosa faccia questo metodo, però io da fuori non potrò chiamarlo così come non posso andare a chiamare quelli che sono i valori dell'istanza che vado a marcare come private. Questo più o meno è l'utilizzo di quelli che sono i getter e i setter. Quindi facendo un piccolo ripasso, un getter e un setter ci permettono di permettere di interagire all'esterno con il nostro, con delle variabili che possono essere private, ma anche pubbliche, nessuno ci impedisce di fare questo, ma generalmente hanno questo tipo di utilizzo. Il loro vantaggio qual è? È che io posso andare ad avere della logica custom in questo punto, quindi posso controllare magari che la città dell'utente che mi viene passata non sia, non so, Tokyo. Nel caso fosse Tokyo non ritorno niente perché da Tokyo non si può vedere questo perché c'è una norma legale incredibile. Oppure la stessa cosa di set course count, io posso avere della logica che impedisce di andare a fare alcuni set sulla nostra variabile, diciamo, privata. Quindi sono io che detengo in pancio della classe quella che è la logica con cui voglio andare a fare l'update di questo elemento, ok? Se poi vado all'interno di quello che è il mio file .js, ecco che mi ritrovo comunque con questo tipo di scrittura che praticamente è esattamente la stessa rispetto a quella che troviamo all'interno del nostro file .js, quindi non stiamo facendo niente di incredibilmente strano.